Ho messo insieme una serie di elementi disparati, vado a spiegare per chi Ronaldo, Juventus perché Francesca Piccinini è notoriamente tifosa bianconera, nessuna è perfetta, Raimondo Vianello a cui ho chiesto ma rifaresti tutto, mi ha detto sì e Francesca Piccinini spesso è stato chiesto negli ultimi tempi ma rifaresti tutto perché ha deciso, e da qui partiremo, di appendere le scarpette al chiodo, poi vediamo in che modo, in maniera definitiva. Sicuro? Sicuro, sicuro al cento per cento, non torno più indietro. Ma c'è la possibilità che tu rimanga comunque nel mondo della pallavolo? Ma c'è questa possibilità anche perché ho dato talmente tanto a questo mondo che è giusto che una figura come me rimanga in questo ambiente. Non so ancora in che veste però sì, allontanarmi dalla pallavolo così di botto non è facile. Sicuramente non in campo, non mi vedrete più con la maglia numero 12 però in un'altra veste sicuramente. Allora, ricordo ai distratti che Francesca Piccinini ha vinto sempre che il suo profilo Wikipedia sia corretto, perché io mi fido ma mi fido con grandi riserve di quello che trovo scritto in rete. Allora, vado a leggere, a livello di club, cinque campionati italiani, quattro coppe Italia, cinque supercoppe italiane, sette coppe dei campioni, una coppa delle coppe, una supercoppa europea, una coppa CEV che ho appreso documentandomi che è un ulteriore trofeo internazionale, questo per quanto riguarda il club. Poi con la nazionale ha vinto i giochi del Mediterraneo, due volte, no tre volte, il trofeo della Val d'Aosta, tutto e ogni volta però c'è sempre la domanda, nel leggere un po' di rassegna stampa la domanda è neve, però non avete vinto le Olimpiadi. Non le abbiamo vinte, ho partecipato a quattro Olimpiadi e sono sempre arrivata lì, ma non ho mai portato a casa una medaglia olimpica. Questo è un rammarico, però doveva andare così. Spero tanto che queste Olimpiadi di Tokyo, l'Italia della pallavolo riesca a portare a casa una medaglia. Vabbè, si può seguire da tifosi, certo, manca quello nel palmarès, nel medagliere. Lei tiene i trofei sotto chiave in una teca, come fanno alcuni a casa? Mio padre ha fatto una bacheca con tutte le mie medaglie, quindi sì, ce l'ho in Toscana, a Massa, dove vive la mia famiglia. Avevo una stanza con tutte le coppe, i riconoscimenti, adesso col trasloco sono dentro dei cartoni che un giorno li risistemerò. Ieri sera ero a cena con il mio grande amico Adriano Panatta, a cui raccontavo appunto che oggi ci saremmo visti con questa chiacchierata, e lui mi ricordava che invece lui ha proprio la ripulsa per tutto quello che gli ricorda il passato, anzi poi, noi scadiamo nella grossolanità, lui diceva se qualcuno mi proponesse un armadietto di quelli con i vetri prenderei la mazza da baseball e lo abbatterei. Vabbè, ma Adriano Panatta è un soggetto che non c'entra nulla. Premi individuali, miglior giocatrice, Supercoppa italiana in Champions League, e due volte con il CEP, due volte, tre volte con la Champions. Quanto l'è pesato, quando ancora giocava, dover sostenere il peso di tutti questi successi? Cioè, quanto si caricavano i tifosi di aspettative nei suoi confronti? E quanto lei, sono passato a lei, perché ogni tanto va da lei al tu, ma va benissimo, sopportava, riusciva a far fronte a questo caso, sapendo che ci si aspettava da lei e anche dalle sue compagne sempre il meglio? Ma all'inizio era un pochino più difficile, perché vabbè, ero più giovane, più insicura. Poi dopo, con l'esperienza, la convivevo tranquillamente, ecco, questa pressione. esiste, però nel momento in cui ti alleni duramente in campo e dai sempre il 100%, questa pressione va in secondo piano, perché si è consapevoli del lavoro fatto e quindi non si può che fare bene. Ecco. A che età ha cominciato, Francesca? Eh, ho iniziato a otto anni a innamorarmi della pallavolo. Poi dai 14 ho debuttato in Serie A e da lì sono stata sempre ai vertici, fino a 40 e past'anni. E' bellissimo che fa il gesto come se 40, detto a un biliardo come me, 40 anni, 40 anni di successi, poi uno arriva ai 40 anni, attraversa la famosa linea d'ombra di Conrad e a un certo punto decide di affrontare la seconda parte della sua esistenza. Come si era immagina, Francesca? Beh, sicuramente sarò molto più libera, avrò la possibilità di gestire un pochino di più la mia vita, anche perché prima era difficile, era proprio scaglionata da allenamenti, allenamenti, partite, trasferte, ritiri, e ogni giorno era così. Quindi oggi cercare di fare le cose che non ho fatto prima, quindi, non so, farmi un weekend da qualche parte, prendere la macchina, andare quando voglia, trovare amici, affetti e per il futuro sicuramente non sarò una che sta con le mani in mano. Già oggi, che ho smesso con la pallavolo da un mese, forse un po' di più, e comunque ho iniziato subito a tenermi in allenamento, facendo un po' di corso, un po' di pesi a casa, adesso sono aperte le palestre bene o male, e quindi il mio futuro lo costruisco, lo costruisco e appena trovo qualcosa di cui mi piace, mi appassiona, ecco, cercherò di prendere la strada per qualcosa di diverso dalla pallavolo. Allora, quando si ha di fronte una sportiva, una donna che fa sport, protagonista, poi ai massimi livelli come è successo a lei, inevitabile la domanda è, ma la famiglia, i figli, ci pensa? Ha in programma, ha in progetto? Ma cerco di pensare giorno per giorno, quello che sarà, sarà. Ho sempre pensato, ho sempre avuto il desiderio di diventare mamma un giorno, poi la mia vita, c'era la priorità dello sport, oggi voglio stare bene, se ci sarà l'occasione, benvenga, sarò la donna più felice del mondo, se no doveva andare così. Guardi, su questo tema con me sfondo una porta aperta, perché a me cinque anni fa il mio medico mi aveva detto, se è arrivato a cinquantacinque anni, non hai mai avuto figli, mettiti il cuore in pace, che la statistica e la medicina non sono dalla tua parte. Contemporaneamente a mia moglie, che io in quel momento ancora non conoscevo, il suo medico diceva a quarant'anni esattamente la stessa cosa, cioè dicendo guarda, lascia perdere, ci siamo conosciuti e un mese dopo è rimasta incinta. Glielo dico non perché io consideri obbligatorio fare figli, sono arrivato a cinquantacinque senza farne e mi consideravo assolutamente realizzato, poi c'è chi può averli, c'è chi non può purtroppo averli, si entra in un'altra dinamica, ma insomma ecco non si fidi troppo con grande rispetto della scienza e della medicina, degli eventuali risponsi sull'età, sulle cose, è un mistero al quale dobbiamo andare incontro accettandone poi eventualmente le sentenze. Io ho citato Sergio Bambaren, scrittore nato a Lima, in Perù, naturalizzato e australiano, perché Sergio Bambaren è stato da lei citato come uno scrittore di cui divorava i libri, forse manco se lo ricorda, quando lei ha scritto il libro La Melagrana, se lo ricorda? Sì, sì, me lo ricordo, sono passati un po' di anni, però sì, me lo ricordo, è uno scrittore che mi piace molto, quindi l'ho citato nel mio libro. Perché scrisse La Melagrana? Sono curioso, cioè è arrivata a 26 anni all'epoca, a voler mettere un primo punto, uno dice adesso vi racconto qualcosa di me, non so se magari per correggere l'immagine comunque distorta che danno i mass media di tutti noi, cioè tutti noi quando siamo raccontati da altri, in parte ci riconosciamo, in parte, ma di chi stanno parlando? Di me? Ma io non sono quella roba lì, è per questo che ha scritto La Melagrana? Ma sono, quando ero più piccola, più giovane, ero molto riservata, molto chiusa, scrivevo tantissimo ogni giorno, poi mi hanno proposto questa cosa qua e ho detto ok, scrivo i pensieri di Franci, la carriera in quel momento lì, fino a quel giorno lì, e ho voluto più che altro un ricordo per me e per avere, comunque dare la possibilità anche ai miei fan e alle bimbe in quel periodo, cioè vedere che noi sì siamo dei supereroi, ma anche noi abbiamo comunque le nostre difficoltà, i nostri momenti difficili, ho raccontato il mondiale, le olimpiadi, momenti belli, momenti brutti, e quindi ho voluto, anche perché ricordarmi tutto, un giorno penso che farò un altro libro, e ricordarmi tutto della mia vita è difficile, quindi ho fatto un pezzo della mia vita. Ho visto, raccogliendo materiale su di lei, diverse interviste, ecco una delle quali era appunto rifarei tutto quello che ho fatto, compreso, anche qui devo citare, ma visto che lo ha fatto lei, non si stupirà che io citi lei nelle sue interviste, compreso Playboy, compreso una bella anche dichiarazione sulla sua lunga storia con DJ Ringo che ho evocato in presentazione, conferma tutto? Sì, indietro non si torna, penso che la vita, in quei momenti lì, le scelte che ho fatto, del calendario, di qualsiasi altra cosa, squadre, società dove ho scelto di andare, erano, era quello che volevo in quel momento lì, quindi rifarei tutto, sì, anche perché indietro non si può tornare, quindi, sì. Com'è, allora, c'è questo termine inglese che adesso va molto di moda sui social, io so che lei ha, l'ho visto, un profilo Instagram, poi se mi vuole dire il suo rapporto con la variegata galassia dei social, controversa galassia dei social. No, intanto mi dica questo, poi le dico la domanda, che rapporto ha, cioè, le serve per entrare in contatto col mondo, proprio per dare lei un'immagine autentica di sé, cioè, se proprio dovete parlare o sapere, o volete conoscere Francesca Piccinini, ve lo offro io. Sì, è abbastanza veritiero il mio Instagram, sono io che lo gestisco, non sono una che si fa scoprire tantissimo, però mi dà la possibilità comunque di mantenere contatti con i miei fan, con le persone, mi piace, perché comunque, oggi come oggi, le foto è difficile averle, perché con questo telefono qua rimangono all'interno, quindi è un bell'album con dei ricordi bellissimi, quindi ho un buon rapporto, ecco, però... Le è mai capitato di essere, diciamo, attenzionata in maniera negativa, criticata, o, spero di no, insultata, perché purtroppo la madre dei cretini e degli imbecilli è sempre incinta, quindi le è capitato qualche episodio spiacevole? Sono fortunata, perché poche volte mi è capitato, comunque, dei commenti un po' negativi, abbastanza, ho sempre abbastanza gente che mi fa commenti sempre positivi, quindi sotto quel punto di vista lì, però ci sono anche persone che gli piace stare dietro delle... al telefono, alle tastiere, e niente. Sì, non sanno come impiegare il loro tempo e qualche volta, duole dirlo, sfogano le loro frustrazioni, perché di questo si tratta, altrimenti non si spiega. Tutti leoni da tastiera che poi se li vai a querelare o a citare per danni o a denunciare, si trasformano in conigli. Qualcuno addirittura, mi è capitato di raccontarlo, manda la mamma all'incontro con gli avvocati, dicendo, scusate, mio figlio o mia figlia si è pentito di quello che non si rendeva conto. Parliamo magari dei genti di 30 anni che non si rendeva conto. Secondo me poi è giusto essere indifferenti, perché nel momento in cui rispondi vai dietro comunque al loro modo di vivere, la loro giornata, quindi è meglio ignorarli, certe cose. Allora, di solito si dice che l'ambiente sportivo maschile è molto competitivo, anche tra compagni di squadra. Questo succede nel calcio, dove poi si tramandano leggende di risse negli spogliatoi tra giocatori della stessa squadra, tra giocatori dell'allenatore. Qualche volta può essere anche successo nel mondo della pallavolo maschile. Dicevo adesso, va molto di moda questo termine a proposito degli scontri fra donne, catfight, l'alite fra gatti, anzi fra gatte, quindi che si graffiano, che si tirano i capelli. Le è mai capitato nel corso della sua carriera a livello di club o a livello di nazionale di essere protagonista a suo malgrado magari di qualche fraintendimento con qualche collega, non dico con cui siete venute alle mani, sono certo di no, ma magari non avete attraversato un momento di grande empatia. Beh, comunque quando sei in un gruppo non si può essere amiche con tutte, quindi a volte ci sono stati degli scretti, ma è normale, è normale. Però io sono stata, sono una che ho sempre detto quello che pensa, ho cercato sempre di risolvere se ci sono dei problemi, delle incomprensioni, perché comunque in un gruppo bisogna cercare di lavorare tutti per lo stesso obiettivo, quindi fuori dal campo non si deve essere per forza amiche, ma in campo dobbiamo lavorare per arrivare a un obiettivo tutti insieme. Poi chiaramente cappelli tirati o quant'altro non è mai capitato, però magari un po' di anni fa con le cubane, con la rete di mezzo, qualche orletto, sì. Ah già, giusto, le cubane, certo, una tradizione, mi raccontava mia moglie, ex giovane pallavolista, le tradizioni cubane. Qual è tra i tanti trofei, riconoscimenti meritati in carriera, quello più legata? Cioè qual è a livello di grepe, a livello di nazionale, il ricordo più forte? Sono tutti emozionanti per carità, però ce ne sarà uno in cui forse per le modalità in cui è stato conquistato, la fatica che ha fatto. Quante ore si allenava normalmente in attività, Francesca? Mattina e pomeriggio, due ore e mezzo del pomeriggio, la mattina facevo pesi o tecnica individuale, quindi abbastanza. Seguendo un duro regime alimentare? Beh, io per quello sono stata fortunata, ho sempre cercato di mangiare tutto, non mi sono mai privata di niente, però come in tutte le cose bisogna non esagerare, quindi ogni tanto si può anche mangiare qualche dolcetto, però non esagerare. Io con tutto l'allenamento che ho fatto comunque li bruciavo con i dolci o magari, non so, delle patatine, delle cose che non si dovrebbero mangiare. Vabbè, ho capito, il famoso carboidrato su cui bisogna fare attenzione, certo lo capisco, ma si figuri poi, io al posto degli addominali ho i lardominali, quindi chi meglio di me? Le chiedevo qual è il trofeo, il traguardo che più le ha regalato l'adrenalina e l'emozione. Sicuramente la penultima Coppa Campioni, che ho vinto con Pomi, perché era da tanto che per scelta non volevo giocare a livello europeo, volevo dedicarmi solo al campionato italiano, quindi quell'anno ho scelto di andare a giocare in questa squadra di casa maggiore, Pomi e una squadra che comunque è una società non nei vertici e sono andata lì, ho detto, dato che giocavano la Champions League, ho detto voglio venire qua per vincere la Champions League. Ho vinto la Champions League, abbiamo vinto la Champions League, ci tenevo tantissimo e è stata per me un ricordo bellissimo perché mi sono infortunata un mese e mezzo prima della semifinale e della finale, sono stata ferma un mese per un problema alla spalla e quindi l'ho proprio sofferta, sofferta questa Champions perché c'era il rischio che non riuscissi a giocare e alla fine stringendo i denti, lottando e facendo tutto quello che dovevo fare a livello di riabilitazione e allenamenti, sono riuscita a giocarla, a vincerla, eravamo comunque non le favorite e quindi è stata una bellissima soddisfazione, perché c'è stato tutto un problema di salute e quant'altro, quindi è ancora meglio vincerla così. No no, quando poi il risultato arriva dopo un periodo complicato e in salita si apprezza ancora di più, ma questo conferma poi che il carattere Capricorno, ascendente Capricorno di Francesca Piccinini emerge, poi appunto segno di terra, mi spiega sempre Branco, segno di terra, quindi quadrato, pratico, messo lì, determinato nel raggiungimento degli obiettivi, quasi apparentemente insensibile, freddo, distaccato, non è così, di solito quelli che non hanno rispito i freddi distaccati è che non manifestano il vulcano che magari hanno dentro, lo dico perché, e stiamo chiudendo, ho visto che è andata ospite in una trasmissione della Rai dove le hanno fatto la carambata del video di suo papà, o sbaglio? No no, non sbaglia, non sbaglia, mi sono emozionata tanto perché non me l'aspettavo, proprio mio padre che fa un videomessaggio per me, cioè me l'aspettavo di tutti ma tranne di lui, anche perché non pensavo, ecco, non ero preparata a un videomessaggio, e quindi mi sono proprio commossa, poi era tanto che non andavo a casa e sono andata a casa adesso, in questa settimana, me li sono goduti un po' e tra il Covid e gli impegni con la pallavolo, quest'anno me li sono goduti pochissimo, quindi, non so, quel pianto è stato un po', ecco, liberatorio, quindi non è così duro il capricorno, ogni tanto fa vedere anche il lato dolce e il lato fragile, ecco, comunque. Ma ci sta, ci sta, non significa, no, non avere un lato sensibile e morbido e delicato per il fatto che si sceglie magari un'attività, una disciplina sportiva in cui è richiesta, appunto, la grinta, la capacità di rapportarsi ad un obiettivo, siamo tutti degli impasti di pregi e di virtù, come ci ha confermato, poi, di pregi, di virtù e di difetti, i difetti non li ho visti, sicuramente li avrà, sarà l'occasione per fare un'altra chiacchierata con Francesca Piccinini, che ringrazio della cortese disponibilità, in bocca al lupo per i suoi prossimi 43 anni, mettiamola così, che saranno sicuramente pieni di successi, ci rivedremo se poi, per scoprire, se c'è stata la maternità agoniata o non agoniata, ma insomma, la vita è bella perché è lunga e ci riserva sempre grandi sorprese, si dice che tutti noi abbiamo a disposizione due esistenze, la seconda comincia quando realizziamo di avere a disposizione soltanto una. Bene, grazie Francesca Piccinini, noi ci rivediamo domani con un'altra signora, Ritanna Armeni, che è stata una militante di rifondazione comunista, portavoce di Fausto Bertinotti, ha scritto un libro, ma insomma, parleremo di attualità, voi continuate a seguire Francesca Piccinini, in quello che farà lefonti.tv, a cominciare dal prossimo appuntamento, noi ci rivediamo domani, e buona giornata.